essere un firmo il negozio rimane nostro e poi continuare a lavorare no non penso che me lo permetterebbero allora non cambia niente non fare cazzate e tu non pensi altro tempo e tu firma no firma e lascia di tutte le spalle firma firma e torna alla tua vita di sempre ma io io non ti sparo invece dovrei farlo perché io non firmo hai capito io non firmo potete farmi quello che volete qual è la nostra amicizia la mia integrità la sua integrità voi avete sentito cosa ha detto vero è lui che non vuole firmare voi non dite che solo io e solo cattivo grazie a tutti